il concetto di classic di classico è completamente in antitesi con la concezione stessa del rock n roll e anche del pop anzi il rock n roll nasce proprio in opposizione a tutto ciò che è classico sostanzialmente alla musica classica che da sempre in ambito rock n roll si dice la musica classica è quella che si suona nel conservatorio in un posto dove si conservano le cose il rock nasce per sovvertirle non per conservarle per cambiarle per cambiarle velocemente però in modo quasi beffardo il rock n roll che non ha nemmeno 70 anni è diventato classico in maniera molto più veloce di molte altre forme d'arte pensarci un disco come questo può avere qualcosa di classico quattro ceffi in quattro teppisti per strada coi giubbotti quando i ramons pubblicano il loro primo disco non sono ancora finite in meno gli anni 70 tutto pensano meno che un giorno qualcuno potrà dire che questo è un classico perché loro vogliono sovvertire tutto quello che c'è e vogliono farlo in maniera estremamente veloce veloce e ciò che cambia la percezione di classico nel rock n roll e perché lo è divenuto perché molte cose non si possono più vedere e quindi molti gruppi non so i beatles i grandi gruppi che hanno fatto la storia del rock n roll ahimè hanno perso alcuni dei loro componenti e in questo momento quando passano da una fruibilità immediata che è la lezione del pop che passa dalle radio e dai concerti a una dimensione mitologica diventano classic e classic diventa una definizione anche all'interno del rock n roll ci sono delle stazioni radio che trasmettono il classic rock pink floyd le zeppelin ma anche cose più recenti persino il punk persino i sex pistols sono classic ed è una cosa che io credo infastidisca grosso modo chi ha prodotto quei dischi se voi parlate con un gruppo ora e gli chiedete quello che fa e può essere considerato classic si infastidisca assolutamente no quello che faccio innovativo non può essere un classico però così è successo ed è una cosa buffa perché pensateci il rock n roll esce fuori da tutta quella che è la cultura classica è una cosa fatta di giubbotti di chitarre nasce semplicemente come un'esigenza teenagerial dei ragazzi giovani elvis presley è la risposta bianca sexy alle alle turbe sessuali delle ragazzine che lo ascolta nella radio nella provincia americana però è diventato un linguaggio universale il rock n roll ci sono delle dei concerti in america che si chiamano daddy's rock cioè il rock del papà dove magari si esibisce paul mccarney e diventa sedutivo anche per i figli diventa classic nel momento in cui ci sono diverse generazioni che vanno a vedere la musica rock dal vivo ci sono i padri ci sono i figli molto speso e ci sono nonni figli e nipoti e questo è avvenuto in pochissimo tempo non ha avuto non ha dato la possibilità di maturare come moltissime altre forme d'arte però è anche il segreto vero del rock e roll e alla fine anche chi è cresciuto appunto con il chiodo col giubbotto di pelle mai avrebbe pensato che un giorno tutto quello che era in opposizione veloce in contrasto con la cultura classica sarebbe diventato una specie di sonate di beethoven deve farci i conti anzi deve esserne contento perché il rock n roll è diventato un linguaggio condiviso fondamentale prima era la cultura bassa da anni si è parlato della differenza tra cultura alta e cultura bassa si è detto che bisogna equipararle e il rock n roll in questo punto da questo punto di vista ha dato una mano enorme quando citiamo alcuni gruppi quando citiamo alcune frasi di canzoni in quel momento sappiamo di poter fare riferimento a una percezione condivisa e questa direi che è la definizione di classic più forte che possiamo avere quindi ascoltate i classiconi i beatles pezzano sticky fingers non preoccupatevi se erano vecchi cefi perché quei musicisti ora molto spesso sono dei distinti signori e non c'è nulla di male anzi ciò che contengono quei dischi continuano essere esplosivo continuano essere innovativo e continuano essere una forma d'arti immediata e velocissima quindi se è piaciuta così tanto e funziona ancora oggi e ci fa sobbalzare ci fa sognare e ci fa desiderare di riascoltarlo beh vuol dire che è un classico sognare e ci fa